salve so come tutti voi anch'io mi trovo in casa ringrazio ancora una volta antonio bruno che mi ha chiesto di fare questo video in quanto mi chiede te che conosci tanta gente tanti amici vivi nel mondo dello sport da tanto tempo quindi è giusto che tu ci dica come stai cosa fai e lo stesso tempo bruno mi chiede anche di ricordare alcuni momenti belli quelli più significativi diciamo la mia vita trascorsa sia nel campo dell'informazione in quanto come molti di voi sapranno ho lavorato per oltre 40 anni nel mondo dell'informazione e allo stesso tempo nel mondo dello sport che anche negli ultimi tempi ho sempre seguito molto appassionato di calcio ma non solo a me piace tutto lo sport dai motori allo sport acquatici al ciclismo e soprattutto il calcio il calcio di cui faccio parte diciamo come allenatore prima come per lavoro e poi come allenatore oppure prima come per lavoro insomma il calcio mi appassiona tanto tempo e anche io anche quest'anno ho la mia squadretta mia under 14 che purtroppo sono ragazzi vivaci e sapere che sono costretti a stare in casa come tutti gli altri suoi amici tutti gli altri ragazzi di tutta italia non è facile forse più facile per noi e ce ne facciamo più una ragione ma per loro è ancora molto più difficile quindi un abbraccio a tutti chi deve stare in casa ragazzi e non e stiamo in casa perché forse un giorno usciremo e saremo più felici più contenti di quello di prima di stare in casa diciamo perché amiamo più la vita se pensate un attimino la fortuna che abbiamo avuto finora noi dove quelli come me hanno avuto dei nonni anche dei babbi che hanno passato tempo molto più duri di questi pure ce l'hanno fatta ci hanno spianato la strada di una vita migliore un momento strano di questa vita che nessuno si aspettava però è una battaglia che sicuramente vinciamo vinciamo contro un nemico particolare quindi un abbraccio a tutti i miei ragazzi a tutte le persone che come me sono costretti a rimanere in casa antonio mi chiede anche di parlare un po dei me della mia vita trascorsa negli anni passati in quanto ripeto un uomo di informazioni di spettacolo in quanto lavorato per oltre 40 anni per una televisione e sono stato a contatto con tanta gente con mi sono fatto tantissimi amici e questo è per me è bellissimo insomma anche oggi ritrovare gente che ti saluta che forse non riconosci nemmeno più e quando ti salutano fai un po mente locale di dire ma chi era quello ti fermi un attimino a pensare e poi la vita che appena mi si è fermata andando allo stadio ad arezzo commentavo le partite per la radio per lo stesso Bruno dove le trasferte dietro la squadra della mia città e poi i miei ragazzi io alleno da anzi sono 20 anni infatti nell'anno 2000 ho preso fatto il corso di allenatore di base UEFA base e quindi sono 20 anni pensate in questi 20 anni quanta gente ho incontrato quanti ragazzi ho conosciuto ragazzi che erano bambini che erano della scuola calce che ora sono sposati hanno famiglia le ritrovi ti salutano ti dicono ciao mister io mi fermo penso ma chi era quello a volte poi parlando un attimino si ricorda vengono fuori dei bellissimi ricordi quindi lo sport è essenziale nella vita e per me mi ha dato tante tante soddisfazioni voglio raccontarmi alcuni episodi che ricordo con affetto con gioia cioè il calcio dà anche dei momenti difficili come il calcio ripeto tutto lo sport però lascia sempre dei bei ricordi anche nel bene o nel male lascia dei bellissimi ricordi pensate che nel lontano 87 84 ho vinto un campionato di terza categoria qui nel mio comune come allenatore avevo Mauro Pasqualini e come compagni di squadra un certo Giulio Peruzzi che molti di voi conosceranno che tuttora allena a Camuscia e quindi ecco vincere quel campionato in quei anni lì pensate che noi tutti ci ritroviamo ogni anno in una serata speciale anzi anche in due durante l'anno per per stare insieme per mangiare una pizza mangiare qualcosa ci ritroviamo tutti gli anni e forse tutti gli anni ripetiamo ricordiamo le stesse cose è bello oggi con me come amico stretto quel mister di allora che Mauro Pasqualini che condivide con me il campo da calcio le partite dei ragazzi viviamo in perfetta armonia e poi così tanti altri quindi quell'anno lo ricordo benissimo pensate che hanno specialmente aver vinto il campionato siamo andati a fare un amichevole a Bologna Bologna allora vincitisce del campionato di serie B con alla guida Maifredi particolare che mi fu chiesto oh ma tu quando entri in campo stai attento a Pecci molti di voi sapranno ricorderanno che era Pecci fu una partita che finì pensate 11 a 1 per il Bologna ma non contava il risultato contava essere lì e chi fece quel gol nostro lo fece Giulio Peruzzi è un grandissimo amico ripeto che è stato fin da piccolino un grande calciatore tuttora un grande uomo poi negli anni su seguire ho intrapreso la carriera di allenatore prima di istruttore poi ripeto nell'anno 2000 è arrivato il momento di fare il corso di allenatore di base l'ho fatto e anche quello è un bellissimo ricordo perché mi ricordo che perché alla fine del corso io stesso ho contattato l'allora mister dell'Arezzo Sers e Cosmi per festeggiare tutti quanti noi uscivamo da quel corso con futuri allenatori futuri istruttori diciamo fare una partita namichevole allo staglio contro l'Arezzo allora allenata da Sers e Cosmi e tutto è andato per il meglio ci sono riuscito ci siamo trovati al centro del campo abbiamo fatto questa questa partitella questa sgambata diciamo dove l'Arezzo certamente non aveva niente a che vedere con noi anche se nelle nostre file c'erano anche dei giocatori promotenti dei giocatori ex giocatori diciamo importanti e pensate che come allenatore di noi novelli allenatori avevamo valentieri Angelillo Angelillo che ci ha lasciato poco tempo fa che tutti ricordano era in panchina che con noi che ci dà dalla panchina le istruzioni di cosa fare una cosa buffa che mi ricorda ancora e mi fa tutto piacere che mentre erano in campo ho vinto un contrasto contro Bazzani siccome eravamo a fine stagione senti l'urlo di Sers e Cosmi che dice Bazzani ma che sei già al mare ecco queste sono le cose che non ti dimenticherai mai poi e andando avanti pensate che in questi venti anni diciamo sono venti anni proprio quest'anno che ho questo benedetto cartellino di quale ne vado orgoglioso sono venti fuori anche dei ragazzi bravi a giocare qualcuno ha fatto carriera qualcuno no però nella vita penso di essere stato utile per aver insegnato qualche cosa e che fra questi c'è una cosa particolare che mi viene in mente stavo allenando gli uniors dell'allora San Domenico l'ignoressa regionale e avevo in porta un certo Mirko la Terraca che oggi è allenatore della Tuscar oggi è stimato geometra si è dato penso che ho sentito che si è dato anche un po' alla politica ecco questo Mirko la Terraca ho fatto qualcosa per lui spero nel bene gli ho fatto conoscere la sua attuale moglie di cui condivide due bellissimi figli è successo tutto questo che una sera con la squadra si va a mangiare in un ristorante e in questo ristorante porto con me l'allora una ragazza che mi stava aiutando nella mia attività si sono conosciuti con la stella si chiama stella sono conosciuti ed allora è nato un grande amore che tuttora le condividono sono marito e moglie quindi io spero che Mirko non me ne voglia anzi che sia contento di tutto questo lo stesso la stella auguri ragazzi ecco queste sono le cose che nella vita si incontrano si si ricordano ti fanno piacere quando trovi certa gente che ti ricordi sai ti ricordi che l'avventura ti ricordi cosa abbiamo fatto poi ciao mister ciao come va ragazzi lo sport è il massimo il massimo secondo me a tutti i livelli per fare amicizia per stare in mezzo alla gente a chi piace come me e pensate quanto è dura ora stare in casa dura uno come me che diciamo come si dice non c'è al di bosco una volta di qua una volta di là una volta allo stadio una volta a mezzo al tuo campo una volta dietro la rezzo una volta dietro a un fatto di cronaca anche per per lavoro è una cosa è dura è dura però bisogna stare in casa bisogna stare in casa perché un domani può essere molto meglio un domani usciremo e apprezzeremo forse di più ancora quello che abbiamo davanti nostra vita io sono un po fortunato diciamo in questo senso perché è una casa in campagna quindi un po chiudi sbago ce l'ho non ho abitazioni accanto a me la più vicina sarà a 100 metri però è dura lo stesso ora voi mi vedete mi vedete in casa con il cappello diciamo che ci fai con il cappello in casa vabbè ho messo il cappello perché il cappello mi ha accompagnato nella mia vita diciamo è sempre stato con me un cavallo da battaglia e ritornando allo sport un'altra cosa che mi viene in mente che vi voglio dire nella mia diciamo ventennale carriera ormai di cui ripeto non sono mai stato e questo ne vado orgoglioso perché vuol dire che le società mi hanno creduto in me non sono stato mai un anno fermo ho sempre allenato ho sempre trovato il modo di stare in mezzo a campo sportivo con dei ragazzi più grandi più piccoli che siano ma sono sempre stato per vent'anni e voglio continuare ad esserci voi conoscete sentite parlare conoscete quasi tutti sapete chi è maurizio sarri maurizio sarri quando ha vinto ha portato la san sovino diciamo in serie c2 nei professionisti ero lì ero lì che io allenavo i giovanissimi regionali siccome la promozione è stata anche avendo vinto la coppa italia una fase di punteggio avendo tutto il settore giovanile io allenavo i giovanissimi regionali io ho dato il mio piccolo contributo diciamo come mi dicevano di insistere di andare avanti per arrivare alla fine anche se la squadra non era il massimo perché quei punti servivano per fare il salto di categoria e così è stato quindi posso dire che ho contribuito anche al salto di categoria della san sovino in c2 con la guida di maurizio sarri che sapete oggi stimato allenatore fra più stimati che ci sono in circolazione non solo ho avuto la fortuna e il piacere di far parte di uno staff che ha fatto per due anni di seguito il torneo di viareggio alla guida di una rappresentativa del camerum sono stata un'esperienza bellissima andare a giocare alla spezia a giocare contro l'inter giocare contro l'atalanta sono esperienze dove conosci in realtà diverse del tuo calcio del tuo mondo ti fanno e questo ti queste esperienze questi ricordi ancora oggi mi danno qui l'input di andare avanti di darmi da fare di aggiornarmi perché come vedete io alle mie spalle ho un computer sto qui ma nonostante ancora voglia voglia di aggiornarmi faccio dei corsi di aggiornamento vado a cercare su internet nuove cose mi apprendo appunti mi preparo così diciamo gli allenamenti se un giorno spero quanto prima possibile di ripartire ecco questa scusate la mia chiacchierata ma è quanto mi ha chiesto un po' Antonio Bruno di nelle sue domande di purtroppo domande a distanza perché io sono a casa sua sono a casa mia lui a casa sua e quindi non potevo fare altro che rispondere di mia spontanea volontà senza la domanda diretta ritornando a noi ho i miei ragazzi ho i miei ragazzi che sono la squadra under 14 che si trovano in questo momento a casa stiamo in contatto mi chiedono mister ci fai fare qualcosa ci dai qualche esercizio beh l'ho fatto gli ho dato degli input anche agendo da soli con il pallone un po' di tecnica di base di sfruttare un muro se c'è un muro un cortile perché fare il muro con il pallone è molto importante alla loro ità per il controllo della palla per alcuni gesti tecnici coordinazione eccetera quindi sono in contatto ci siamo sentiti anche due giorni fa ho chiesto loro se andava tutto bene tutti mi rispondono mister voglia di ricominciare voglia di ripartire quando è spero dice quando ripartiamo saremo più forti perché abbiamo tanta voglia e questo lascia be' sperare non solo quel senso ma per tutte le persone che come me e come tutti voi stanno a casa sperando che la cosa finisca quanto prima e quanto prima torni a vivere quella vita che ci piace tanto viverla non chiusi in casa però ora stiamo in casa stiamo in casa crediamo che tutti insieme ce la fanno grazie a tutti